Buongiorno, oggi vi faccio vedere lo svuotaspesa. Sono andata in due negozi diversi, anzi in due supermercati diversi. Sono andata al Carrefour perché oggi è mercoledì e il mercoledì c'è il 10% di sconto sulla spesa, sul totale della spesa per chi ha più di 65 anni. Adesso vi faccio vedere quello che ho comprato. Ho pagato 75 euro, il totale era 82,50 euro, quindi mi hanno fatto il 10% di sconto. Adesso vi faccio vedere quello che ho acquistato. Poi sono andata in un grande negozio, è tipo un ingrosso di frutta e verdura, e ho comprato 10 euro di verdura. Adesso ve la faccio vedere. Allora, questa è la verdura. È un'intera busta, vedete, è un'intera busta di scarola, scarola liscia. Adesso ve la faccio vedere perché è proprio bella. Allora, la parte interna, la parte più chiara, la farò all'insalata. Le parti più esterne le cuocerò e le farò stufate. È una busta intera. Vedete, l'ho pagata 2 euro, tutta la busta. Poi ho comprato questi funghi che, non lo so, noi li chiamiamo le cardarelle. Le vedete? Vedete i funghi? Questi qua? Questi hanno la folla, sono molto larghi, e io questi qua generalmente li impano e li friggo come se fossero delle cotolette. Poi qui ci sono altre cardarelle, oltre a queste qua che vi ho fatto vedere. Poi ci sono sei peperoni, non sono molto grandi. Vedete la dimensione? È questa qua. Ne ho presi sei. Poi ho preso, vabbè, mi hanno regalato la solita, soliti odori, come si dice, prezzemolo e sedano. Poi ho comprato, aspetta che apro la busta. Allora, sono sei zucchine, belle, proprio belle. Guardate che belle queste zucchine. E ho comprato anche due grappoli di, penso che saranno 600-700 grammi di pomodori, questi qua. Vedete? E ho speso in tutto 10 euro. Allora, vi faccio vedere quello che ho acquistato al Carrefour. Allora, ho comprato, vi ho detto che ho pagato 75 euro. Allora, tre fascetti di, non sono broccoli, sono friarielli. Poi, 10 uova. Poi ho comprato, questo che cos'è? È un misto di maiale con peperoni e olive taggiasche. Poi ho comprato il macinato misto, maiale e vitello. Poi ho comprato i capperi. Ho comprato la pastina all'uovo. Ho comprato la pancetta fumicata. Altra pastina. Altra pastina. Cinque bocconcini della bella molisana. Olive nere se denocciolate. Il vino bianco che uso per cuscinare. Poi, qua c'è anche altra carne. Adesso vi faccio vedere. Un attimo di pazienza. Allora, questa è fesa di tacchino. Questo è un petto di bollo intero. Poi, fette di petto di bollo. Petto di bollo a fette. Carne di maiale tritata. Poi, quattro cotolette di pollo. Poi, quattro hamburger di vitello. Poi, ho comprato la pasta. La pasta di Gragnano. Un litro d'olio di semi, perché costa tantissimo. Basta uno. Poi, ho comprato i dadi vegetali. Gli stuzzicadenti. Per finire, un bel pezzo di parmigiano. E tutto questo che vedete, ho pagato, ho comprato parecchia carne. Come vedete, ho comprato parecchia carne. Ho pagato 75 euro. Perché, vi ripeto, il totale era 82,50 euro.